Ciao amici trader, buongiorno! Oggi è il 9 di gennaio, andiamo a fare l'analisi sulle candele weekly e daily per la settimana che va dall'11 alla 15 di gennaio per le commodity. Partiamo dalla CRB, l'indice delle commodity, come potete vedere qui si era chiuso il G1, avevo detto che se doveva rompere questa resistenza dinamica avrebbe potuto andare a prendere 200, ormai ci siamo quasi vicino a 175 il primo target che avevo messo e come potete vedere è quasi stato raggiunto. Se guardiamo sul glassfico daily vedete che le medie sono ancora tutte rivolte verso l'alto. Il VIX che questa settimana ha fatto un'altra candela negativa, una pin bar vedete che avevo messo che se doveva rompere questo supporto avrebbe potuto andare a prendere la media 200 per il momento il trend, siamo in una fase di lateralità possiamo dire e per il momento il trend rimane ancora per il momento short. Il VIX sul grafico daily potete vedere voi stessi che sul grafico daily siamo proprio in una fase di lateralità, staremo a vedere se romperà questo supporto. Poi andiamo adesso a vedere il ratio che è un altro coda molto importante e andiamo a vedere il gold con il silver. Vedete che questa settimana a parte che il trend rimane ancora come posso dire short scusate che metto questo lo allungo, eccolo qua vedete che siamo ancora in una fase laterale, siamo in una fase ancora di short l'argento è più forte, anche se questa settimana è stato rotto il minimo della candela precedente è stato rotto al massimo, una candela outside ribassista qualora dovrebbe rompere questo supporto potrebbe il gold riprendere a essere più forte dell'argento per il momento l'argento rimane più forte del gold. Se andiamo a vederlo sul grafico daily, come potete vedere il gold ha fatto questa settimana una candela positiva, vedete, però il trend rimane ancora al ribasso avevo detto solo che se rompeva questo supporto allora l'argento avrebbe potuto fare una grande forza però per il momento il trend, vado a mettere questo, rimane ancora, lo potete vedere voi stessi prendo questa pin bar qua, scusate, vado a tracciare questo e come potete vedere finché non rompe questo supporto, questa resistenza dinamica l'argento rimane più forte del gold, comunque le medie sono ancora rivolte verso il basso il Dow Jones contro il gold e come potete vedere guardate cosa è successo avevo detto che se rompeva la resistenza dinamica, eccola qua avrebbe potuto il Dow Jones continuare a rialzo e così è stato chiuso con una candela positiva e avevo messo, se vi ricordate, questa media 200 a 17,81, ci siamo quasi vicino, il trend rimane ancora, come potete vedere voi stessi qui lo allungo, eccolo qua, il momento rimane ancora in una fase di long e se potete vedere il Dow Jones contro gold, vedete che il Dow Jones ha preso la forza e è andato a fare questo pullback, attenzione, la due mesi ancora rialzo qui sembrava voler andare arrivassi, invece ha girato ancora verso l'alto potrebbe adesso fare il pullback, staremo a vedere, il momento è da monitorare poi il Dow Jones contro le commodity e vedete che le commodity avevo detto che se chiudeva, rompeva sotto questo supporto ha andato sotto però siamo ancora sopra, il momento trend siamo in una fase laterale, vedete che le commodity hanno più forza del, come si chiama, delle Dow Jones però vedete che anche qui rimane ancora per il momento in una fase di laterale però vedete che le medie sono rivolte verso il basso poi andiamo a vedere solo il ratio per le crypto che è interessante, il ratio per le crypto, vedete che il Ethereum questa settimana è stato più forte del Bitcoin vedete che è andato a prendere il 0,031 per poi ritornare sotto questa resistenza a supporto, resistenza dinamico avevo detto che qualora rompesse questo target sarebbe sceso è stato e è andato a 22 per poi ritornare al rialzo questo potrebbe essere un pullback comunque per il momento se dovesse rompere il massimo potremmo andare a prendere questo massimo per il momento staremo a vedere e se lo guardiamo il ratio delle crypto eccolo qua scusate dell'interruzione vedete voi stessi che al momento il Ethereum sembra voler essere più forte del Bitcoin staremo a vedere che cosa succede ma adesso andiamo a vedere le commodity che è la cosa più importante partiamo dal WET il WET questa settimana ha fatto un nuovo massimo che eccolo qui, questo nuovo massimo vedete che il trend siamo in un G3 G4 potrebbe essere G4 vedete che di fatto questo abbiamo qui attenzione perché se dovesse rompere la chiusura l'apertura di questa candela pinbara qui allora continuerebbe il suo rialzo per il momento il trend rimane sempre long e se lo guardiamo sul grafico daily vediamo come sono le medie e le medie vedete che sono rivolte verso l'alto per il momento il trend rimane ancora long di short sul lungo termine non se ne parla la soia che è andata quasi a prendere i 1400 nuovo massimo fate attenzione che sono 1, 2, 3, 4, 5 settimane che la soia continua a un grande rialzo il G3 vedete che siamo arrivati a 1, 3, 90 adesso è inutile il trend rimane ancora long per il momento è inutile entrare al mercato aspettiamo di entrare al mercato dopo la correzione vedete che le medie sono tutte rivolte verso l'alto il corn il corn anche lui nuovo massimo vedete che qui adesso il momento trend rimane ancora long se dovessi rompere il massimo il momento anche questo è un G3 il momento è inutile entrare al mercato bisogna trovare un modo migliore per entrare tutto è rivolto verso l'alto sulle granaie possiamo dire che tutte e tre sono rivolte verso l'alto il gold ieri ho preso lo stop in profitto purtroppo è ritornato a 1847 attenzione perché vedete che questo minimo del 30 novembre è un minimo importante ve lo metto qui questo minimo che adesso vado a sportare a muovere questo è un minimo importante che vi suggerisco di monitorare perché attenzione che lo vado a togliere così e lo rimetto in rosso che possiamo chiamare il minimo dello spartiacque perché se dovesse rompere questo minimo dello spartiacque e allora potrebbe il nostro gold tornare a short attenzione che questo minimo del 30 novembre potrebbe essere partito il semestrale perché se guardate qua c'era stato a marzo aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre questo potrebbe essere un minimo molto importante staremo a vedere però qui c'è una candela outside ribassista e attenzione che se rompe questo allora potrebbe tornare short se andiamo a vedere il gold sul grafico dei attenzione vedete che io ho messo che se rompeva questo lo faccio in grande questo minimo potrebbe continuare a scendere per il momento siamo a rialzo su un annuale qui siamo in una fase laterale per il momento aspettiamo non facciamo niente 1764 è il leg da monitorare per il momento qui con questa candela negativa aspetterei prima di fare una po' qualsiasi cosa l'argento io sono entrato nell'argento con il pag adesso lo vado a mettere qua l'argento sono entrato nell'argento ieri l'argento ha fatto anche una candela outside ribassista attenzione ha fatto rotto il massimo probabilmente anche qui aspettiamo prima di fare qualsiasi cosa io sono long su un etf e che vado a tenere su lungo termine e il nostro argento rimane ancora long anche se ha fatto questa che è una candela di correzione anche qui questa candela del 27 novembre attenzione perché se dovesse essere rotta potrebbe continuare la sua discida per me il trend rimane comunque long il petrolio che sono entrato guardate cosa avevo detto se toccava la media 200 che era il prossimo targhi io sono sempre dentro con il nostro argento l'argento che questo lo vado a togliere per il momento trend rimane ancora long prossimo targhi potrebbe essere i 59 vedete che il qui scusate l'argento il petrolio eccolo qua petrolio che lo potete vedere lo stesso rimane ancora in una posizione di long per il momento lascio il petrolio long poi dopo il petrolio andiamo a vedere il platino platino che fatto questo nuovo massimo vedete che attenzione il platino è rivolto ancora tutto a 1066 platino che è ancora in una fase di long per il momento non faccio niente ci sarà sicuramente da entrare prossimamente il trend rimane comunque long lascio aspetto di trovare un prezzo di entrate perché il platino ha sul lungo termine e ciclicamente è long poi il caffè dove sono dentro long con un etf questa settimana ha rotto al massimo vedete che io ho messo come target questo pullback vedete che per il momento siamo in un g4 io sono dentro nel caffè con un etf che sto ottenendo long sul lungo termine staremo a vedere che cosa succede e il caffè vedete eccolo qua caffè che per il momento il trend rimane ancora in una fase di long ovviamente qui ci siamo in una fase laterale però aspettiamo il caffè è inutile per il momento chi non è entrato aprire una posizione il gas gas che questa settimana ha fatto una candela positiva vedete che qua c'era questa pinbar infatti è salito su questa pinbar però trend rimane ancora long io voglio vedere che se rompeva questo doveva chiudere sotto non è stato fatto probabilmente trend rimane ancora long prossimo target potrebbe essere se rompe il massimo andare a prendere i 2.89 poi qualora sopra i 3 andiamo a vedere il gas sul grafico deli e sul grafico deli attenzione perché l'annuale è long e qui sembra voler girare starei attento prima di aprire posizioni sul gas poi HG il copper che continua il suo rialzo copper vedete che continua long inutile aprire posizioni al momento vedete che qui avevo messo in passato qui al momento lascio tutto così non faccio niente inutile entrare siamo troppo alti non ci sono le condizioni di entrare sul gas il gas che rimane comunque long scusate il copper il cotone cotone che sta volando anche lui vedete che il cotone nuovo massimo eccolo qua cotone cotone che continua in un G2 che potrebbe essere questo attenzione che vado a vedere quante sono le candele 38 potrebbe avere chiuso qui però aspettiamo rimane comunque long sul cotone inutile aprire posizioni short cotone che rimane comunque vedete voi stessi long il cacao cacao che questa settimana ha fatto invece la candela negativa cacao che si trova in un momento in tanta incertezza probabilmente non faccio niente aspetto sul cacao e il cacao vedete che sul grafico siamo in una fase di lateralità non faccio niente non ci sono le condizioni di entrare terminiamo con lo zucchero lo zucchero che vedete nuovo massimo vedete che sullo zucchero c'è stato fatto un nuovo massimo pin bar attenzione a questa pin bar potrebbe essere ingannevole veramente sullo zucchero suggerisco di aprire solo posizioni long per il momento aspettiamo e non facciamo niente io vi ringrazio ancora a tutti e vi auguro a tutti una buona fine settimana e ci sentiamo per la settimana prossima ciao a tutti